una messa come si dice bella Andrea come stai? sto bene, sto bene giustamente diceva Valdo chi se lo poteva immaginare, forse è la data proprio, no? questa data che delle scissioni forse, non lo so, qualcosa di astrale qualcosa di astrale forse prima che arrivi Carlo Galli che è un professore serioso, qualcuno mi ha chiesto di fare degli accostamenti io ci ho provato allora adesso vi dico che cosa ho accostato allora Bombasci, scissionista durante il congresso, tira fuori la pistola contro Vacir e Renzi Turati che ammonisce e non viene seguito in Mattarella Conte che non accetta gli ultimatum e Serrati Zingaretti o è Terracini, nel senso che bene o male è quella scuola lì, oppure Modigliani il padrone di casa che vedrà la sua casa oggetto di scuola e così o così non mi fermo e continua così ma comunque in questi giorni ci fu anche ci furono anche le dimissioni di Ciampi nel 94, mi sbaglio? vedi che la congiunzione astrale allora pensavo si fosse dimesso a mare già a febbraio ma adesso lo dovrebbe rimanere e può essere perché si votò molto presto poi per una serie di motivi si rimase in in ordinare amministrazione mi sembra fino ai primi di maggio o aprile sì, fino alle elezioni e poi anche 25 giorni dopo le elezioni convocarono le camere un po' tardi naturalmente Ciampi ci vietò di fare qualsiasi nomina di muovere qualsiasi fuscello di fare qualsiasi cosa aspettando avevo visto apparire Andrea Catena avevo visto apparire a tutti ci sono ecco Andrea ciao Andrea è già 24 e appena arriva il professor Carlo Galli si comincia ma questi accostamenti sono carini Valdo chi lo sa? quantomeno quantomeno sdrammatizza un po' cosa? no, per mettere un po' di sale per mettere un po' di sale mi viene da dire forse ecco le tensioni ideali non sono proprio le stesse ma insomma però quello è banale è scontato è scontato beh da il fatto che facessero sei giorni di congresso sì sei giorni sono tanti però parlavano in po' questo era sì perché avevano diritto a parlare a lungo ma io mi ricordo vabbè ero abituato appunto a parlare a lungo e anche gli esponenti delle minoranze parlavano a lungo anche nei consigli comunali sicché quando dopo tanti anni tornai nel consiglio comunale di Firenze prima seduta in sediamento di Renzi sul quale me l'ho candidato e quando mi danno la parola io speravo di avere e invece me l'ha tolso dopo cinque minuti ho diritto a cinque minuti mentre lui aveva parlato cinquanta ovviamente uno shock per me mi ricordo bene vedo che siamo ventinove ripeto l'ordine dunque io direi qualcosa in apertura il professor Carlo Galli poi gli autori Regoli, Catena e Graziella se c'è e se qualcuno già si vuole iscrivere lo può fare ovviamente finché Galli non è entrato io non comincio ciao Valdo viva là ah eccolo ciao Sergio ben arrivato grazie che fondale hai Bellino? ho un quadro di Gianna Scoino che era una pittrice dell'Accademia di Firenze ma figurate dunque io sembra che abbia un'aureola ma in realtà è una è una una lampada non sono stato ancora santificato no? stiamo aspettando il professor Galli ma se volete io ripeto possibilità cosa? prego ti ha parlato? ci sono possibilità di una prossima santificazione? difficile sono Ezio ah ciao mi riferivo all'aureola è difficile siamo già a 31 ad impossibilia nemo tenetur professor Galli come lo sapete è il presidente della fondazione Gramsci Emilia Romagna che ha sede a Bologna buonasera tira l'audio Valdos ciao sono Giampaolo arriva ah ciao Giampaolo che piacere senti non devo mettere il mio nome da qualche parte è ricco è già lì compare si attiva se vuoi metterci il nome di battesimo è granito Giampaolo posso scriverlo lo scrivo lo scrivo lì ora mi chiedi troppo ma lasciamo anche solo Ricco un bel cognome però non ti vediamo forse non hai acceso la televisione non ti vediamo ah ecco avvia il video vediamo un po' mando un messaggino a Galli per dire siamo pronti ho visto Siriana che è la direttrice del Gramsci di Bologna Siriana Tupani sì sono qua buonasera buonasera grazie grazie di questa compartecipazione che ci fa molto piacere ha fatto molto piacere anche a noi è anche carina come allora mando un messaggino noi siamo pronti a Carlo vuoi che lo faccia io lo fai tu Valdo farlo tu farlo tu siamo pronti siamo già 35 che non è male perché appena arriva Carlo io comincerei infatti già siamo su Facebook vedo sì anche bisogna disattivare l'audio no c'è qualcuno che ci lo farà ecco Gianpaolo in tutta la sua bellezza grazie avete tutti visto Pierluigi Regoli che è il colpevole della vicenda il colpevole che ha edito questo testo ah sì ecco faccio mia colpa buonasera a tutti buonasera insomma c'è una bella audience ma penna non ci vuole si stava collegando perfetto ciao Stefano Bassi dove sei grazie c'è proprio una bella audience qualificata sì molto bello perché c'è scritto anonimo romano 2020 prima di piero luigi regoli prego perché c'è scritto anonimo romano 2020 se lo spiegate dopo no allora questo è un errore e adesso se volete mentre aspettiamo ve lo spiego allora ho fatto una doppia pubblicazione cioè il testo l'ho circuitato su amazon che è quello che da più possibilità di circuitazione e poi l'ho appena messo in un accordo con una serie di case editrici di altri soggetti sia su come book altrove per esempio su mondatori su bs eccetera eccetera sia in cartaceo attraverso you can print nei fatti in un tentativo in una prova di di condivisione di questi documenti è uscito fuori uno pseudonimo di case editrice che in verità non esiste in verità la cosa è auto pubblicata su amazon per cui l'editore è amazon europa e in più da poche ore è pubblicato anche che con you can print che mi assicura la distribuzione anche sulle librerie fisiche bene un po di gente aveva detto sì vabbè ma lo fate soltanto con i capitalisti di amazon su dici vabbè ma anche le tipografie erano delle capitali facevano i capitalisti però l'unità e l'avanti le facevi insomma diciamo si è capito che era meglio averlo anche in quel circuito lì in verità è uno dei vantaggi della nuova editoria la possibilità di pubblicare queste cose sostanzialmente a prezzo zero e anche perché questa è infatti un'operazione d'archivistica che sarebbe difficile da fare e da sostenere economicamente con l'editoria tradizionale non ci rientrerebbe mai nessun editore vedo che sta per entrare Carlo Galli è entrato allora facciamo entrare mi taccio intanto era per quello comunque ero refuso grazie grazie a regoli mi sembra che è entrato Carlo no sì vado se Carlo Galli è entrato io comincio e credo che però si stia connettendo e l'abbiamo ammesso ciao l'abbiamo dentro sì però non non so se ci si è connesso con l'audio in questo istante il professor Galli non so voi lo vedete Carlo no Carlo Galli giù a destra eccolo qua connessione all'audio ecco si si vede eccolo allora buonasera a tutti siamo già 50 deve attivare il microfono Carlo Galli così ci saluta sì eccolo buon pomeriggio a tutti ciao Carlo ciao Carlo anche tenuta in ordine questo è esempio per tutti allora buonasera e intanto come dicevamo prima sottolineo che questo è un webinar organizzato insieme dalla fondazione Circo Rosselli di Firenze e che dalla fondazione istituto Gramsci dell'Emilia Romagna con sede a Bologna non solo abbiamo qui il presidente Carlo Galli ma abbiamo anche il direttore Siriana Soprani e l'oggetto della nostra conversazione è la presentazione di questo volume 1921 reso conto di una scissione per Luigi Regoli che vedete nelle le immagini ha avuto l'idea di procedere una nuova edizione aveva le edizioni avanti degli atti del congresso del che si svolge dal 15 gennaio al 21 gennaio ma che il 21 gennaio del 1921 vede la scissione che dà vita a quello che si chiamava allora partito comunista d'Italia cioè i delegati di quella che si chiamava allora frazione poi si è inventato il termine corrente componente eccetera ma si chiamava frazione lasciano il teatro Goldoni e si riuniscono al teatro San Marco dando vita al partito comunista qualche breve notazione per contestualizzare intanto avete visto che sono veramente intensi cioè a dire la passione comunque si giudica questi lavori la passione politica c'è tutta ed è veramente intensa con qualche episodio anche che va sopra le righe quando per esempio eh un delegato del riformista vacirca accusa bombarci e penso che tutti sappiate che era bombarci purtroppo per lui finì addongo fucilato insieme a Mussolini accusa bombarci di essere un rivoluzionario da temperino bombarci tira fuori una pistola per dimostrare di eh essere invece un rivoluzionario dotato anche di armi da fuoco oppure quando parla il delegato dell'internazionale leninista che è Cristo Kabacev un bulgaro eh un delegato fa volare una colomba bianca come dire qui c'è qualcuno che dall'esterno ci vuol portare eh le indicazioni dello Spirito Santo ma al di là di queste diciamo cose un po' sopra le righe lo dico per iniziare un po' all'anglosassone anche con un sorriso sono sei giorni di dibattito drammatico e intenso quindi prima notazione eh una politica comunque la si giudichi comunque molto nutrita di valori ed ideali ahimè il dibattito è dal punto di vista di quello che sta per succedere molto centrato cioè il cuore del dibattito è come comportarsi nei confronti della Russia dei Soviet e del partito bolshevico e dell'internazionale a cui il partito bolshevico di Lenin ha dato vita come è noto l'internazionale propone alla PSI che per fare parte di questa nuova internazionale la terza occorre espellere i riformisti di Turati in realtà la situazione generale non vede purtroppo per fortuna vicina una purtroppo dire una rivoluzione bolshevica o sovietica in Italia l'anno dopo eh direi diciotto mesi dopo c'è la marcia su Roma e la costituzione del primo governo Mussolini questo tema non c'è nel congresso non lo agitano né riformisti né massimalisti né comunisti semmai c'è indirettamente attraverso l'azione di Giacomo Matteotti che presente a Livorno che avendo saputo che a Ferrara è in preda alle violenze fasciste lascia il congresso e va a Ferrara assumere la direzione della camera del lavoro di quella città viene nuovamente assalito aggredito perché Matteotti non è stato solo ucciso è stato aggredito varie volte viene assalito aggredito ma direi forse tutto sommato è la persona che dimostra di più quello che di di aver capito che quello che stava per succedere ma il centro della riflessione è l'atteggiamento e il comportamento nei confronti di questa grande vicenda che naturalmente ha anche un aspetto generazionale non sono i protagonisti della scissione che saranno l'ingegner Bordiga che saranno lo stesso bombaccio di cui ho parlato prima però non c'è dubbio che la generazione giovane dell'ordine nuovo cioè dire Gramsci, Terracini, Togliatti di loro parlerà Terracini è diciamo quella che anche la questa generazionale si sente più legata alla novità della rivoluzione sovietica e quindi alla necessità di superare il modo di fare politica socialista sia quello riformista ma anche quello massimalista di Giacinto Menotti Serrati di Arturo Vella e di altri che ormai non sono poi molto conosciuti diciamo così nella conoscenza dell'operazione pubblica e della e della storia non c'è dubbio che in questo gruppo di giovani ma poi ne parla nel suo intervento Catena ne parla anche a proposito della considerazione che dell'occupazione delle fabbriche a Piero Gobetti c'è l'idea che questa generazione giovane un po deve buttare all'aria il tradizionale modo di fare politica del partito socialista e quindi sarà poi quella che sarà protagonista della reale costruzione del partito comunista dopo che la segreteria verrà ceduta da Bordiga Gramsci ma come dicevo prima quello che sta per succedere in Italia ahimè non è presente il dramma del congresso è se accettare questa imposizione da parte di Lenin dell'espulsione di Turati Treves Prampolini di questi gloriosi riformisti che hanno dato vita al partito socialista italiano o no e qui il corpo del partito anche quello massimalista guidato da Giacinto Menotti Serrati una figura per certi aspetti tragica si rifiuta di compiere questa operazione qui poi naturalmente la storia non si fa con i se e con i ma c'è chi dice che Lenin pensava che alla fine Serrati si sarebbe piegato c'è chi pensa invece viceversa in ogni caso Turati pronuncia un discorso di grande respiro in cui rivendica il passato glorioso della fondazione del partito socialista in cui si diffonde in profezie che poi si riveleranno abbastanza realistiche cioè sull'idea che il comunismo non si possa realizzare in un paese soprattutto agricolo come l'Unione Sovietica semmai avrebbe dovuto realizzarsi in Germania nelle punte più avanzate dell'industrializzazione e quindi diciamo prevede un futuro non positivo un futuro non positivo nei confronti del partito comunista che nasce Serrati resiste all'imposizione invece a differenza di quello che probabilmente Lenin pensava Serrati resiste rifiuta l'espulsione dei riformisti e a questo punto sono i comunisti la frazione comunista che va via e dà vita al partito comunista italiano come dicevo poi le vicende di questi cento anni non le posso riassumere le abbiamo tutti presente sta di fatto che nel ricordo di questo avvenimento si è passati da una fase in cui soprattutto da parte comunista partito in piena espansione fino a un certo stadio della nostra repubblica si guardava alla celebrazione della fondazione del partito comunista pur ammettendo che questo aveva comportato dolori problemi scistioni così via ma che tutto sommato era un fenomeno di carattere positivo mentre da parte socialista si guardava soprattutto all'aspetto negativo in particolare in quel periodo pensiamo che nel 19 infatti vedete anche le immagini il congresso si svolge in un grande teatro c'è un grande fondale con la foto di Marx e la scritta proletari tutto il mondo unitevi attenzione è il congresso del partito che alle precedenti elezioni politiche ha avuto la maggioranza relativa molto lontana dall'assoluta ma comunque il più votato e il secondo partito votato è stato il partito popolare di Luigi Sturzo oggi sarebbe normale che un partito che è il più votato si ponesse il problema di fare un governo e di fare magari un'alleanza con i popolari quella che avrebbe bloccato il fascismo questa alleanza non si fa è lungo spiegarlo nel 1902 sembra che si sia sul loro di farla ma non si fa Turati che ha capito il pericolo arrivare alla formazione di un governo rompe la pregiudiziale antimonarchica e va dal re alle consultazioni per questo motivo sì io suggerirei di togliere l'audio però per questo motivo buongiorno buongiorno per questo motivo la maggioranza del partito socialista espellerà per questa colpa buonasera mi scusi non sentiamo più veramente disattivato me che sto indubbiamente parlando dicevo avere rotto la pregiudiziale antimonarchica essere andato alle consultazioni del re nel tentativo di dar vita al nuovo governo giolitti socialisti popolari e liberali di giolitti ma come noto giolitti si rifiutava di parlare con sturzo in quanto non parlamentare gli sembrava una cosa non degna comunque questo tentativo sarà mona e allora il partito la maggioranza del partito socialista buonasera espelle turati e riformisti al momento della marcia su roma i partiti saranno addirittura tre buonasera il psu di turati buonasera a tutti di turati buonasera di turati matteotti treves prampolini e quant'altri il partito socialista ufficiale quello di arturo vella lo trovate nel film il delitto matteotti e il partito comunista che è nato a livorno quindi diciamo così di questi anni è indubbiamente un elemento piuttosto complicato ecco con effetti disastrosi il quindi da questa celebrazione un po antitetica il pc che celebrava la sua nascita i suoi successi il partito socialista che invece vedeva questo elemento come un elemento di rottura che contribuiva non da solo evidentemente alla nascita del fascismo si è poi passati nel momento del massimo scontro psi pc anni ottanta e poi caduta del muro di berlino all'idea che psi e pc dovevano rivedere questa rottura e in qualche modo ricomporsi di fatto come cerco di dire nel mio osaggio i tentativi sono stati molto molto pallidi in questa direzione ricorderò buonasera il congresso di esse e l'apertura che ne fece ruffolo e la citazione che fece allora ruffolo di livorno oggi che dire oggi certamente non c'è più nel pc nel psi c'è un partito del socialismo europeo in cui c'è anche il partito democratico qualcuno sentendosi più socialista qualcuno sentendosi un po meno buongiorno quindi diciamo oggi possiamo da un lato considerare con pacatezza storica questi avvenimenti guardarli storicamente difficile dire io invoco livorno per rafforzare in questo momento un partito però forse una lezione per l'immediato e con questo termino forse si può si può fare ecco questa nostra dibattito si svolge nel piano una crisi politica che può portare anche un ulteriore distacco fra partiti e istituzioni allora l'invito che io rivolgerei viceversa però la crisi politica italiana il quadro internazionale ha alcuni aspetti positivi vittoria di biden negli stati uniti formazione una maggioranza di centro sinistra intorno alla commissione von der leyen a livello europeo augurio magari queste due esperienze possano in qualche modo intensificare o aumentare una collaborazione e allora vi domando se non potremmo rivolgere l'invito al pd di zingaretti proprio nel centenario della vicenda di livorno di farsi promotore ma il termine costituente e de modè ma comunque di una larga riunione di un largo allargamento di forze di movimenti non solo della politica perché quelli della politica sono ridotti sappiamo come ma anche della società civile di un centro sinistra diffuso che nel nostro paese di allargare i confini di quel partito dio merda questo va tolto allora questo va tolto dio bastardo e scusate ma chi è che ammette in questo modo la gente chiedo scusa spini allora intanto comunque questa è una registrazione quindi chiunque si sia permesso di fare questo intervento poi sarà perseguito di dovere io chiedo alla fondazione che naturalmente non è responsabile di eh levare l'audio a tutti in modo che possa essere possa essere esclusa la persona che si è permessa di fare quello che abbiamo eh eh l'audio va tolto a tutti no bene ma così vediamo capiamo subito che si sta divertendo poi naturalmente sarà perseguito con nome e cognome io non no no ma poi è molto semplice l'audio va tolto a tutti poi ci sarà chi chiede la parola e lo avrà e naturalmente siccome chi chiede la parola si qualifica se è un disturbatore verrà silenziato allora io sto per arrivare alla fine ma ci riprovo la prossima volta comunque richiamiamo in servizio Claudio il il sto per arrivare alla fine dicevo oggi non c'è qualcuno che possa avvantaggiarsi politicamente dal richiamo a Livorno né in un senso né in un altro la situazione purtroppo della sinistra italiana è quella che è però forse un invito oggi si può fare in conclusione dicevo c'è uno schieramento un un quadro internazionale con alcuni aspetti positivi nel senso che la vittoria di Biden negli Stati Uniti la formazione una maggioranza intorno alla commissione von der Leyen in Europa la possibilità che queste due esperienze possano magari anche guardare a guardare reciprocamente con una certa simpatia e quindi nell'ambito ovviamente della difficoltà reciproca ma anche collaborare quindi non sarebbe male se il pd di zingaretti nell'anniversario nel centenario di Livorno lanciasse per lo meno una grande assemblea di forze non solo politiche quelle sono ridotte come sono ridotte ma anche della cultura della società civile per dire abbiamo imparato la lezione di Livorno abbiamo imparato che cosa significa una frazionamento una divisione in presenza di grandi difficoltà in presenza di forze che contrastano gli ideali della sinistra del centro sinistra e quindi in qualche modo anche se non nelle forme tradizionali vogliamo fare una iniziativa che sia di allargamento che sia perlomeno nelle petizioni di principio di unità forse questa è una almeno dal mio punto di vista qualcosa che potrebbe sorgere dalla considerazione di questi avvenimenti sono convinto che fino in fondo con la radice di Livorno nessuno ha fatto fino in fondo diciamo i conti storici come come meriterebbe questo invece merita di essere fatto e quindi grazie a Pierluigi Regoli che ha avuto questa iniziativa poi sentiremo anche gli altri autori vedo già Andrea Catena va ringraziato credo che proprio la ripubblicazione degli atti questa fonte storica possa servire per una rievocazione non di comodo per una rievocazione seria che possa dare nuova linfa alle forze politiche così snervate dalla vicende delle crisi degli ultimi anni ma di cui è assolutamente necessario il rilancio grazie a tutti darei ora la parola al presidente della fondazione gramsci di bologna al professor carlo galli grazie buon pomeriggio a tutti io ho letto con vera passione con vera passione e questo lunghissimo quasi 400 pagine questo lunghissimo verbale di quel lunghissimo congresso di sei giorni e ne ho tratto ne ho tratto diverse e contrastanti emozioni e riflessioni intanto non c'è nulla della politica di oggi che eguagli l'altissimo pathos che c'è in quelle pagine lì c'è una una capacità analitica sotto il profilo teorico è una capacità di partecipazione all'evento che oggi non hanno non hanno pari capacità analitica sono presenti tutti i temi teorici della tradizione della sinistra come debba essere organizzato il concetto di opposizione anche se la parola dialettica non è mai presente nel in questo in questo lungo verbale quale sia il rapporto tra la la volontà volontarismo nella azione politica e invece la cogenza se c'è delle leggi della storia qual è la differenza fra la decisione e la opportunità che qui naturalmente è declinata come opportunismo qual è la differenza fra la socialdemocrazia il socialismo e il comunismo qual è il rapporto fra teoria e prassi ripetutamente i non comunisti e imputano ai comunisti la difetti come la metafisica e come il cerebralismo in ciò con una buona capacità intuitiva ci sono poi tutti i temi politici oltre che i temi teorici cioè c'è il tema tema di fondo è l'analisi della fase siamo in una situazione rivoluzionaria non solo in russia ma anche in europa e specificamente in italia punto interrogativo risposta dei bolsheiki e comunisti e sì risposta degli altri forse questo è serrati risposta di turati no insomma tutti i temi politici cioè siamo in una fase di rivoluzione che rapporto a questa fase di rivoluzione con la guerra appena finita e con l'occupazione delle fabbriche appena fallita e qual è il rapporto fra ciò che capita in una nazione nelle diverse nazioni che che compongono l'europa e l'internazionalismo di cui tutti sono fautori qual è il rapporto classe partito dato che i socialisti qui l'intervento di turati è molto molto intelligente c'è c'è una levatura dell'uomo indiscutibile quale rapporto fra classe partito dice turati noi siamo come partito socialista vogliamo essere il partito della classe non vogliamo andare al di là della classe essere più bravi della classe essere l'avanguardia della classe come invece volete voi comunisti o qual è il rapporto fra gli operai e i contadini perché qui è evidente la straordinaria bisogno sagrado privilegio dato all'elemento della dell'operaia industriale dai bolshevichi e invece le grandissime perplessità non soltanto per quanto riguarda la russia quelle le aveva già erano già state largamente elencate dallo stesso gramsci quando diceva rivoluzione contro il capitale ma insomma in italia in italia si dice ma insomma fare la rivoluzione senza o contro i contadini in un paese a larghissima maggioranza contadino è abbastanza improbabile e poi il rapporto con la violenza il rapporto con la violenza che è assolutamente presente prevista in ogni fase dell'agire politico dai comunisti e che invece è visto come o un'esigenza minima da esercitare quando le cose sono ormai immature oppure come un vero e proprio errore una scorciatoia dell'agire politico che in realtà allunga che ancora turati che parla che in realtà allunga il percorso del proletariato verso la dittatura del proletariato che tutti vogliono ma con diversissime accentuazioni tanto che turati giunge dire noi vogliamo il governo del proletariato essendo il proletariato in prospettiva la larghissima maggioranza dei cittadini come non si può definire dittatura che è invece una una fase una fase della minoranza è un concetto che ha senso quando si parla del dominio di una minoranza sulla maggioranza e poi ci sono ci sono i rapporti con la terza internazionale che poi di questo si tratta il rapporto e con i 21 punti che essa ha elaborato e che sono che è necessario rispettare per entrare a far parte della terza internazionale tra questi 21 punti c'è anche il punto della espulsione dei dei non comunisti espulsione alla quale naturalmente turati è assolutamente con la quale tornati assolutamente in disaccordo e che invece in un qualche modo sembra che serrati insomma i comunisti unitari come si chiamavano i massimalisti alla quale sembra essi possano accedere ma come si dice ad persona cioè espulsione di carattere individuale e non invece come atto politico che spelle un blocco una fazione in tutto ciò c'è anche l'idea da parte appunto di qualcuno dei dei non comunisti che la terza internazionale stia chiedendo al partito italiano molto più di quello che ha chiesto ad altri partiti ad esempio a quello francese poi c'è appunto già stato detto mando spini questa questa scioccante percezione che il rapporto amico nemico non sia molto chiaro cioè qui il rapporto amico nemico è declinato essenzialmente in termini interni e direi che il bersaglio principale di chi di kabashev cioè terribile bulgaro che parla a nome della terza internazionale non sia nemmeno treves che è stato come si dice dato per perso ma che sia proprio serrati e certamente il secondo bersaglio è sturzo il terzo bersaglio è giolitti poi c'è qualcuno che si lamenta del fatto che i fascisti vanno in giro a coppare la gente ma insomma l'idea che il fascismo sia il problema non c'è non c'è e insomma questi sono qui che discutono se c'è la fase è una fase rivoluzionaria e intanto si prepara una bellissima contro rivoluzione in assenza di rivoluzione e questo visto con gli occhi di oggi è davvero tragico sono altissimo pathos altissima capacità analitica altissima capacità intellettuale e al tempo stesso cecità davanti al vero nemico davanti alle dinamiche reali davanti alla al fatto che in europa situazioni rivoluzionarie non c'erano e comunque non c'erano più all'altezza del gennaio del 1921 o non di meno ripeto leggendo queste 400 pagine si capisce che cosa dovrebbe essere la politica cioè una attività umana che ha un obiettivo che è quello di prendere l'iniziativa rispetto al corso della storia e modificare il corso della storia questi signori giustamente nessuno di questi signori si muove per meno di questo un agire la politica che deve avere un soggetto e qui tutti danno per scontato che esista un soggetto chiamato proletariato anche se qualcuno fa notare che ci sono sono molti di più i contadini e che questo resta un problema aperto un agire che ha uno strumento il partito partito organizzato di massa e questo c'è un agire che ha un programma un programma che è come minimo quello di governare un processo storico in una direzione portare il proletariato al potere politico in un determinato ambito cioè uno stato è un agire la politica che ha una cultura politica una forte cultura che noi oggi dispreziamo come ideologia insomma una forte cultura politica della quale alcuni sono meno consapevoli di fatto è evidente il libro letto l'unico libro letto è il manifesto tranne che naturalmente da delchi barattano che essendo un professore ordinario di filosofia leggeva anche il resto bel intervento quello di barattano comunista unitario cioè un intervento complesso di grande respiro politica come un agire che ha una meta ideale cioè niente meno che costruire un mondo a misura d'uomo e dove il passaggio intermedio è a misura di proletariato sulla base del principio che se si libera il proletariato si libera tutto l'unico o nessuna di queste condizioni tutte presenti fu sufficiente a capire quello che stava davvero succedendo cioè che si stava armando la contro rivoluzione prima e senza la rivoluzione cioè la fase che non era rivoluzionaria fu governata da altri con altre culture e con altre finalità o qui si capisce anche a proposito di cultura una cosa che il il marxismo italiano nasce secondo internazionalistico cioè nasce dentro la seconda internazionale nasce positivistico sostanzialmente riformistico positivistico benone e che i comunisti i comunisti a questa altezza con ogni evidenza sono portatori certamente di marxismo come no ma di un marxismo che è fortemente contaminato con filosofie diciamo così del dinamismo da bergson a sorella e infatti qualcuno glielo dice dice ma voi con tutto questo vostro agire ricordatevi che è una filosofia dinamica è anche quella di dannunzio che in quel momento imperversava fiume ora l'idea è insomma una debolezza delle istituzioni qui del parlamento parla in modo non completamente negativo solo turati cioè quella fazione lì di andare al governo non se ne parla proprio non se ne parla proprio anzi ripeto si vede in don sturzo un nemico politico importante cioè uno che porta via le masse ai socialisti tutto ciò facilita il fascismo ma evidentemente sì ma nel senso che l'italia era questa cioè era un paese in cui non si riusciva a mettere insieme un un governo democratico finita l'era dei governi liberali con tutti i loro pregi e i loro difetti un governo in presenza del proporzionale che che porta dentro in parlamento i partiti di massa non si riesce i partiti di massa preferiscono paralizzarsi l'un l'altro o nelle appendici c'è un gramsci 1924 che mostra che mostra che mostra una una ovvia superiorità leggo leggo una chat che mi dice giolitti già 15 anni prima aveva più volte proposto atturati di far parte del governo questo non contraddice in nulla quello che ho detto cioè atturati che non ci andava non è che qualcuno glielo proponeva qualcun altro gli sparava contro le cannonate di bravo beccaris tuttavia il punto è che non si poneva in problema di andarci ecco quando durati si risolve ad andare viene espulso dal partito socialista no dicevo un granci 1924 che che tanto mostra va bene qualche anno dopo alla al privilegio di guardare alle cose con un minimo di prospettiva ma dicevo si vede subito una statura una statura politico intellettuale molto molto superiore a quelle pur molto alte dei presenti al congresso anche rispetto a bordiga che si è schematico ecco è una persona schematica e settaria e un gramsci 1924 che dice attenzione quel congresso fu una sconfitta per noi una sconfitta perché ci siamo portati via una fetta troppo piccola del partito socialista cioè ci siamo dimostrati veramente minorità da cui tutta la politica successiva di gramsci quando ho potuto come ho potuto e poi di togliati per fare del partito comunista il grande raccoglitore dell'intera sinistra italiana cioè e e c'è un gobetti 22 altro 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 testo dove si dimostra una bella statura intellettuale politica certamente con l'idea intanto che sembra che la politica italiana sia una faccenda dei torinesi e vabbè ma a parte a parte questo l'idea che i comunisti concludono il risorgimento che da una parte è un'idea che poi verrà sviluppata da granci cioè i comunisti devono concludere il risorgimento e dall'altra è un'idea percorsa proprio da quello che in tedesco si chiama actionismus ripeto si vede proprio che a questa altezza il marxismo italiano si nutre del pensiero non marxist anche del pensiero non marxist non solo evidentemente anche del pensiero dell'azione noi sappiamo il peso che hanno avuto nella formazione intellettuale di togliati e di granci la lettura accanita di gentile di croce più gentile che croce soprattutto per togliati ora oggi per chiudo io non sono un politico come il mio amico valdo spini e quindi mi sento esonerato dal trarre conclusioni politiche se le tre essi sarebbero esse conclusioni è un po più pessimistica di quelle di valdo che però fa bene essere ottimista non si fa politica se si è pessimista fa bene essere ottimista oggi non c'è un sì da spaccare non c'è un pc che lo spacchi un pc di che lo spacchi e le contraddizioni non c'è un proletariato perché ce ne sono troppi perché il lavoro è spappolato e le contraddizioni del sistema ci sono durissime potentissime peccato che a parole a parole ma insomma anche nei voti le interpretano le destre che non sapranno dare ad esse contraddizioni alcuna soluzione ovviamente ma che almeno hanno teso l'orecchio mentre la sinistra non lo ha teso che cosa impariamo da questa dalla lettura di queste 400 pagine impariamo com'era la politica una volta preslancio passione cultura come si sbagliava la politica una volta nel non saper guardare il presente con occhi disincantati inutile dire aveva ragione tizio aveva ragione caio come si fa a fare un ragionamento del genere cosa vuol dire aver ragione nella storia nell'uno nell'altro hanno avuto ragione perché ha avuto ragione mussolini se scopo del gioco è prendere il potere se invece scopo del gioco è costruire una società a misura d'uomo avevano ragione tutte e due anche se certamente nelle parole nel tono nello stile argomentativo dei comunisti c'è una impressionante intolleranza una impressionante intolleranza che turati di nuovo vede sottolinea un impressionante intolleranza che un po spaventa al di là del fatto che tutti hanno un lessico roboante tutti appunto vogliono rifare il mondo comunisti hanno un'aria ferocemente seria ecco che non a caso che non a caso consente a loro di sopravvivere durante il fascismo ma che non a caso dovrà essere smontata in qualche modo dal togliatti del della svolta di salerno ecco ora quello che io traggo e chiudo è proprio questo l'idea che siamo mondi molto diversi molto lontani e che certamente la sinistra non ha ha qualcosa da imparare ma solo a livello direi metapolitico da quello che è capitato allora cioè che per far politica bisogna avere un obiettivo un soggetto uno strumento un programma una cultura politica una meta ideale che la politica consiste nel prendere iniziativa seguendo il corso del mondo ma anche contro il corso del mondo e l'equilibrio la mescolanza fra il seguire e invece andare contro ogni generazione se lo deve giocare da solo deve capire da solo noi oggi stiamo molto seguendo e andando molto poco contro e questo non è non ha fatto bene alla sinistra e io vi ringrazio per l'attenzione grazie carlo è stata veramente una bellissima lezione e credo che questo seminario ci si segnala appunto per questa apertura dialettica con cui cerchiamo di affrontare il tema e di trarre delle lezioni non superficiali ma veramente un po strutturali per il nostro agire adesso credo che il giusto riconoscimento va dato a chi ha avuto l'idea e curato questa riedizione cioè per luigi regoli grazie ci sono ci sono ci sono e sono un po' in difficoltà intervenire dopo voi due e anche che è un piacere ascoltarvi e soprattutto sono molto contento di questa occasione perché lo scopo di questa pubblicazione era un po' questo qui avere delle occasioni potesse essere insomma lo strumento per poter ragionare riflettere perché effettivamente questo centenario già nell'area dava l'idea di qualche iniziativa editoriale ne ho contato una decina però in queste cose mi sono chiesto dico va bene ok tutti parlano della scissione di livorno della fondazione del partito comunista eccetera eccetera e ne parlano peraltro anche perché in tempo recente proprio qui in italia la pubblicazione di m di scurati è stato un caso editoriale che ha acceso indirettamente anche un'attenzione noi dobbiamo anche guardarci un po' oltre c'è il primo volume di m di scurati che parla anche del congresso di livorno e ne parla in forma romanzata eccetera eccetera allora mi sono detto va bene ok sono scomparsi i fatti dalla politica italiana vediamo se almeno le fonti le riusciamo a recuperare e in verità trovarle non è stato facile per il lavoro fatto in questi anni con la regione Lazio ho seguito molto le vicende degli archivi delle biblioteche e tutto quanto quindi mi sono anche un po' incaponito e alla fine ho scoperto che questi atti del congresso di livorno c'erano esistevano eh ma erano stati pubblicati soltanto nel millenovecentosessantadue perché evidentemente eh gli episodi che si sono succeduti da lì a poco hanno travolto qualsiasi possibilità di approfondimento stampa eh riedizione nel sessantadue nel novembre del sessantadue sono le edizioni avanti che pubblicano eh questi atti di congresso e eh la prima edizione va subito via la seconda edizione di gennaio del sessantatré sono riuscito a recuperarla grazie eh a una ricerca su internet l'ho comprata da un signore che ce l'aveva eh con tutti i meccanismi che abbiamo attivato tutti quanti noi come resistenza al covid cioè si sta dentro casa non si va neanche più eh negli archivi nelle cose si cerca di fare qualcosa che da lì ho fatto un'opera di ridigitalizzazione e leggendo l'ho visto che effettivamente c'erano delle cose straordinarie a me ha molto colpito e mi dispiace ma molto colpito il clima il caos che c'è intorno a questi interventi sembra il teatro cespiriano in cui il protagonista non è soltanto attori protagonista è tutto il pubblico e insomma mi dispiace non sapere chi ha fatto i verbali veri e propri questo forse rimarrà uno dei piccoli misteri della storia ma quando scrivono commenti animatissimi oh uh ah ah quelli che cantano l'internazionale dalla parte dei comunisti arrivano gli applausi fischi dai socialisti e eh dei riformisti quindi ti dà anche l'idea dalla da resoconto di una sessione vivace non sono semplicemente gli interventi fatti a un congresso lasciati al tavolo della presidenza come siamo abituati a fare nei congressi politici degli ultimi anni o magari lasciati in una video intervista no questi erano steno erano cose steno grafate eh quello che più abbraccio di tutti sembra essere durati cioè non c'è nulla da dire quello che eh pare però ecco la la cosa più eh straordinaria è come vi fosse nel momento congressuale nell'intervento una fisicità di tutta un'assemblea che lo accompagnava sostenendo o fischiando o anche insultando a volte anche prendendosi a cazzotti eh i vari ehm relatori diciamo che da questo punto di vista i leoni da tastiera quelli che oggi sono sui social media vuol dire sono un'evoluzione in positivo perché lì le scazzottate se le davano sul serio insomma noi poco fa abbiamo avuto un paio di disturbatori che sono stati allontanati ma insomma ci hanno dato un po' di fastidio alle orecchie questi si picchiavano e si picchiavano eh selvaggiamente ehm però ecco nel fare questo lavoro mi è sembrato importante chiedere un aiuto per eh interpretare delle cose innanzitutto avvaldo non solo per l'affetto l'amicizia per le tante cose che negli anni mi ha insegnato ma perché io ho vissuto come dire sia come storico che come politico molta parte di questa vicenda e lo ringrazio tanto non solo per stasera ma per il contributo l'aiuto eh che in queste settimane mi ha dato anche per eh mettere in piedi un po' di riflessioni di iniziative e e tutto quanto perché diciamo eh poi soprattutto ora che c'è in contemporanea qualche scissione in corso qualche uscita o qualche cosa eh eh la fatica della della lettura è tanta e insieme a Valdo poi ho avuto due punti di dubbio che me le hanno chiariti Catena e Falcone credo che sia entrata anche Graziella da nella nella discussione sembrava di averla vista che ecco noi adesso quando parliamo dei giovani al di là dei dati demografici parliamo di gente di quaranta quarantacinque anni ogni tanto anche anche a me danno del giovane ancora in verità questi a venticinque anni erano uomini fatti eh tranquilli che parla che poi è Ignazio Silone beh insomma ha diciannove anni cioè Gramsci Gobetti Nenni Rosselli ah sono uomini noi con Valdo ci eravamo trovati a fare ho fatto un lavoro simile sulla fuga in quattro tempi di Rosselli da da Lipari quando Rosselli muore ha trentasette anni a me sembra un signor anziano in verità i protagonisti di quella generazione che ah come dire si fa le osta sul Livorno sia perché interviene o perché sta fuori Gobetti non c'è però lo segue infatti ehm poi raccogliamo anche una nostra riflessione e tutto sono giovani che però sono adulti sono pronti come dire a prendersi sulle loro spalle eh come dire un destino che per loro è molto in grado ehm Rosselli Gramsci ma anche Pertini Nenni sono tutti segnati poco più che ventenni da scelte di vita che per noi oggi sono impossibili e così ho chiesto ad Andrea un approfondimento di questa cosa noi ho detto guarda integriamo con appunto una rilettura che oggi adesso Gallici ha citato fondantemente che ha scadato Gramsci nel ventiquattro e con un altro pezzo di Gobetti che parla anche dell'esperienza del gruppo di Torino. Così come l'altro aspetto che mi aveva un po' stuzzicato era che al di là della presidenza di eh dell'Argentina Altobelli non ci sono interventi femminili. Allora ho chiesto a Graziella Falconi che immagino conoscete ehm tutti che ha seguito per tanti anni la la scuola delle frattocchie che io conobbi un po' di anni fa quando appunto si occupava della formazione dei dei di esse. Ho chiesto com'è com'era questa questione femminile e ho dato un contributo poi se Graziella ce lo ce lo racconta un po' lei su questa vicenda donne movimento operario che ha parecchie spaccettature eh non sempre auliche. Eh un'ultima cosa perché è davvero per me è più importante ascoltare quello che raccontate a tutte le cose che diceva il professore Galli quello che vorrei eh semplicemente aggiungere in questa tutti questi interventi sento come dire anche dalla carta stampata sento traspirare una compassione una partecipazione di questi relatori rispetto alle vicende delle quali parlano che come dire confrontata con il dibattito attuale è davvero lontana sarà perché parliamo di mess sarà perché parliamo di ce lo chiede l'Europa eh o a tante altre cose ma quel tipo di tensione che c'era anche il tipo di di errori nelle analisi che poi è facile riconoscere l'errore dopo dopo che si è giocata la partita eh però stanno dentro una tensione ideale ehm estrema cioè qui stavano decidendo o pensavano di stare a decidere se l'Italia da lì a poco avrebbe avuto i soviet o meno per cui come dire il senso della dell'urgenza storica è molto forte e anche il senso della missione che tutti di costo avevano ecco credo che questo tipo quello che mi piacerebbe ecco che ci fosse un quello che diceva Aldo cioè un un momento di chiamata alla riflessione in cui tra gli elementi di riflessione potesse essere riproposto anche questo perché ehm quello della passione politica un po' di un po' l'assente degli ultimi anni della politica italiana insieme a tanti altri aspetti però una cosa che mi colpisce che forse manca proprio un elemento di di passione che dà un senso a una militanza un'appartenenza a tutta una serie di battaglie e questo è quanto non vado non vado oltre vorrei continuare a sentirvi ad ascoltarvi ringraziarvi ancora grazie per luigi grazie per questo lavoro che hai fatto se vogliamo alleggerire il webinar io l'ultimo episodio di cazzottatura a cui ho assistito ero stato potenzialmente vittima nel 68 durante l'unificazione psips di io era un giovane molto tagliente all'epoca oggi sono un buono un saggio ma è molto tagliente e allora un social democratico che non che non non sosteneva quello che diceva si lanciò per menarmi e chi è che in risorse a mia difesa e bloccò l'aggressore il senatore luigi mariotti di lì a poco ministro della repubblica ecco questo per dire che questa era una vecchia consuetudine ma basta con queste battute e adesso andrea catena abbiamo il piacere di averlo e ha scritto una delle introduzioni andrea ci sei sì ecco intanto grazie alla fondazione circolo circoli rosselli grazie alla fondazione grammi c'è miglia romagna per per l'invito per questa iniziativa e ringrazio pier luigi con il quale ci conosciamo da molto tempo per per un comune percorso politico noi siamo stati insieme nella segreteria nazionale sinistra giovanile nella stessa stanza io venivo dall'esperienza dei df lui da quella dei laburisti quindi siamo stati un esempio di riunificazione diciamo fisica due tradizioni che siano divise forse appunto già da allora dagli eventi che raccontiamo in questo libro che mi permetto di dire eravamo come dire non solo di culture diverse ma anche di squadre opposte nel caso romanista e laziale quindi proprio e io penso che per luigi abbia fatto veramente un'operazione meritoria non solo perché ha pubblicato i testi e quindi rispetto una vicenda storica e come diceva spini all'inizio è stata troppo spesso oggetto di strumentalizzazioni di di ricostruzioni più al servizio del conflitto politico e di una oggettiva ricostruzione dei fatti ripubblicare i testi vuol dire appunto riandare alle fonti ascoltare la viva voce dei protagonisti ma anche perché io penso sia utile riandare a quell'evento che è all'origine di tante divisioni anche di importanti conquiste storie della sinistra italiana non nel momento in cui celebriamo peraltro appunto il centenario di quell'evento e della nascita di un partito come partito comunista che è stata grande parte della storia della sinistra italiana e ricostruire quell'evento vuol dire appunto non indulgiare semplicemente a fare qualche operazione nostalgia come si può essere tentati di fare ma rileggere quegli eventi da un punto di vista critico perché non c'è dubbio che la storia della sinistra italiana la storia del pc al quale io mi sento legato perché sono stato un iscritto alla federazione giornale comunista vengo da una famiglia di militanti comunisti è stata una grande storia della quale io sono orgoglioso ma è una storia che variletta anche dal punto di vista critico alla luce anche di quel fatto che divise e lacerò la sinistra italiana e non c'è dubbio che quella divisione è stata la causa di tanti limiti della storia della sinistra italiana di anche di sconfitte della storia della sinistra italiana a cominciare dal fatto che quella scissione contribui in maniera probabilmente determinante all'avvento poi del del fascismo e quindi quegli fatti vanno vanno riletti criticamente storicamente e non c'è dubbio che tanti dei problemi della sinistra italiana recente dipendo anche dal fatto che probabilmente siamo stati carenti nella capacità di rileggere la nostra storia in maniera critica ma troppo spesso è prevalsa l'idea semplicemente della rimozione e questo ha contribuito al fatto che oggi la sinistra italiana faccia fatica a ritrovare un filo a ritrovare una capacità di pensiero di immaginare di immaginare il futuro e invece quella storia va recuperata nei suoi pregi nei suoi e nei suoi limiti quindi iniziativa di oggi assolutamente molto positiva aggiungere qualcosa a quello che hanno detto valdo spini e professor galli è davvero molto difficile hanno detto quasi tutto io quindi penso sia giusto anche adesso lasciare spazio ai vostri interventi delle vostre domande dico solo questo che luigi mi ha chiesto mi ha chiesto individuare due letture due contributi che potessero dare il senso un po del contesto storico e anche di portare dei punti di vista diversi ulteriori rispetto a quello che fu il dibattito di quei giorni del congresso la mia scelta è stata abbastanza facile è andata su quei due giovani intellettuali che probabilmente sono stati più importanti in quegli anni nella storia della sinistra italiana da un lato gobetti che è stato quello che come dire ha favorito poi un incontro tra tra una rinnovata tradizione liberale e la tradizione del movimento operaio socialista e dall'altro grammi ci non c'è dubbio che è stato il più importante innovatore pensiero marxista in italia e che oggi è uno dei come se tutti sappiamo degli studiosi attualmente più letti e studiati del nostro paese e professor galli ha detto quello tutto quello che si poteva dire su quei due articoli che ho scelto che mi sembrano significativi anche per guardare a quella vicenda da un punto di vista diverso dagli schematismi con i quali in genere quella vicenda viene viene eletta scobetti ricostruisce la vicenda dell'occupazione delle fabbriche del 20 dei consigli operai che non c'è dubbio sia stato uno dei fatti che hanno poi determinato la rottura all'interno del partito socialista e quindi la la scissione del 21 e gramsci scrive un articolo importante nel 24 in cui sostanzialmente riconosce come diceva prima il professor galli che che la scissione di livorno fu fu una sconfitta fu uno degli aspetti di quella dissoluzione della società italiana lui scrive che poi preparò l'avvento del del fascismo e questo come dire dimostra che tutto sommato non si tratta di stabilire oggi chi ha avuto che ha avuto torta e chi ha avuto ragione in quell'evento ma si tratta perché quel in quell'evento del 21 fu un errore politico veniva riconosciuto allo stesso gramsci già pochi anni dopo ma si tratta di di capire le ragioni di un fatto che di una divisione che poi ha portato appunto una sconfitta storica della sinistra e questo ci deve aiutare a superare errori che puntualmente purtroppo si ripetono nella nostra storia recente non c'è dubbio oggi viviamo peraltro una fase che ha qualche analogia con quegli anni terribili eravamo negli anni venti del secolo scorso adesso siamo negli anni venti del duemila abbiamo abbiamo visto le immagini tutti quanti ricordava valdospine del suo intervento di ciò che è successo in america e quindi una destra sicuramente in difficoltà ma che diventa sempre più aggressiva e pericolosa e di fronte a tutto questo in condizioni mutate noi dobbiamo sapere che ogni volta che la sinistra le forze progressiste si dividono lasciano il campo libero appunto avventure pericolose e quindi viviamo oggi giorni difficili forse riflettere su quei fatti ci può aiutare a ritrovare un po il bandolo della matassa perché non c'è dubbio che purtroppo le divisioni della sinistra ancora una volta del campo progressista ancora una volta rischiano di favorire ciò che invece dobbiamo assolutamente impedire io non 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 mi oltre e insomma penso sia utile anche ascoltare poi domande contributi riflessioni dei partecipanti tipo l'audio grazie andrea catena grazie per questo contributo grazie alla falconi era qui con noi ma dei problemi di audio ha dovuto allontanarsi comunque ha cercato di fare un po una ricerca di quelle donne che non sono apparse sul proscenio ma che di fatto in particolare nel gruppo anche lì c'è un fatto generazionale dell'ordine nuovo che dell'ordine nuovo hanno in qualche modo partecipato alla vicenda l'unica donna che appare negli atti appunto è argentina altobelli per chi non lo sapesse è una sindacalista della fedelterra una persona molto ragguardevole a cui viene fatto presiedere una sessione e recentemente abbiamo editato un volume preludio alla costituente in cui abbiamo cercato di mettere argentina proprio fra le figure da rievocare perché certamente una figura non molto conosciuta ma nell'ordine nuovo c'era pia carena leonetti insomma ci sono altre persone naturalmente le donne venivano utilizzate molto per lavori di segreteria lavori di traduzione lavori di ciclostile lavori di copiatura diciamo cose di questo genere di cammino non è stato fatto di cammino non è stato fatto veramente tanto però credo che abbia fatto bene per luigi a volere comunque questa analisi di graziella falconi su sulla sulle donne che hanno partecipato attivamente a questa a questa vicenda per quanto riguarda il fornimo socialista questo era allargamento influenzato da anna kulishov qualcuno la definiva l'unico uomo del socialismo italiano perché si attribuiva un carattere più grintoso diciamo così dello stesso del suo stesso compagno del suo stesso compagno filippo turati in effetti io per esempio ho curato per la edizione ufficiale la camera dei deputati discorsi di claudio treves il dioscuro diciamo di turati nel riformismo quando treves fa l'esordio fa il suo primo discorso alla camera da kulishov da milano lo segue attentamente si fa riferire e poi è contenta che sia andato bene cioè dietro le quinte in realtà nel nel dietro le quinte nel socialismo riformista la kulishov aveva avuto un fortissimo effetto come sapete era stata inizialmente la compagna di andrea costa cioè di un socialismo tendenzialmente anarchico secondo in questo caso forse primo internazionalista oltre che secondo internazionalista e poi diventa la compagna di filippo turati e certamente l'ispiratrice di questo filone del socialismo riformista italiano però certo non poteva votare manco per cavolo poteva farsi eleggere questa era la situazione delle donne fino alla costituente e poi sappiamo qual è stato il cammino che hanno dovuto fare io avevo avuto una prenotazione del dottor fabio wander ma non so se è riuscito a collegarsi che ha scritto un libro sull'argomento e che te ci teneva giustamente lo ringraziamo a dirci la sua non so se c'è se fabio wander che come è noto è un funzionario poi del senato e che ha scritto numerosi libri su questo argomento se non riusciamo a a vederlo se non si manifesta forse non è riuscito a collegarsi e non so se qualcuno vuol chiedere la parola ovviamente qualcuno di buoni ben intenzionato forse andrea puccetti voleva parlare eccolo al momento non si registrano richieste l'intervento per cui se se tu sei d'accordo magari si potrebbe fare un altro giro di a partire da te naturalmente di interventi se veramente non ci sono altri interventi ma non so se dalla chat qualcuno si è manifestato no al momento sembrerebbe di no ma posso brevemente riparlare poi ridiamo la parola a carlo galli che veramente ci può portare un grande contributo posso ovviamente riparlare io non so se sono stato compreso quando ho avuto tutte le interruzioni parlavo di questo maledetto anno 22 no dell'anno successivo in cui si verifica una spedizione fascista crema una particolarmente grave particolarmente sanguinosa finalmente alla camera viene approvato un ordine giorno di condanna delle violenze fasciste e sembra che si stia per arrivare ad un governo che poteva essere di resistenza al fascismo un nuovo governo giolitti ma questa volta con i popolari e con i socialisti il tentativo non riesce in quel momento se ho capito bene la maggioranza massimalista si comporta in modo come dire un po' opportunista lascia andare torturati dal re ma quando vede che il tentativo non ha avuto successo poi lo espelle e quindi agli inizi di ottobre finalmente si formerà un partito coerentemente riformista il PSU segretario il giovane Giacomo Matteotti ma a quel punto il tentativo dell'estate non è riuscito giolitti manda il suo segnaposto al governo d'onorevole facta aspettando il momento di rilanciare giolitti ha più di 80 anni anche lui di rilanciare una sua eventuale partecipazione a quel punto Mussolini che è tutt'altro che sprovveduto capisce che deve chiudere e quindi se il PSU si è formato all'inizio dell'ottobre il 28 ottobre come noto si verifica la marcia sul Roma facta malgrado tutto chiede al re la firma dello stato d'assedio il re lo rifiuta e chiama invece Mussolini a fare il primo ministro come è noto Mussolini poi diciamo la grande crisi sarà quella del 24 dopo il delitto Matteotti e dopo il delitto Matteotti vi ricordate il 3 gennaio 25 Mussolini va alla camera e dice se il fascismo è stata una invece di una gioiosa primavera della gioventù italiana un'associazione a delinco e di questa associazione a delinco gli sono il capo e nel neonato partito comunista nessuno li replica tant'è vero che l'internazionale comunista li tira le orecchie dicendo ma perché nessun di voi ha parlato e sarà togliatti a rispondere sì no è vero ma è stato un equivoco comunque la situazione è sotto controllo insomma la situazione era tutt'altro era tutt'altro che sotto controllo per dire che prima che il partito comunista maturasse una leadership eccetera insomma ne è passato ecco nel passato di tempo e anche il ritorno dall'Aventino pure se possiamo dire che l'Aventino è stata un'operazione chi lo sa forse sbagliata ma il ritorno in aula dei comunisti lasciando l'Aventino non è che fu molto felice in quel in quel periodo pur se l'Aventino aveva tutti i difetti che ha saputo che ha saputo dimostrare come socialista vorrei sottolineare una cosa chi ha informato sacchi e turati sacchi e prampolini sacchi e matteotti in altrimenti se oggi si chiede a un giovane chi erano i capi del socialismo massimalista credo che faccia fatica a rispondere che erano giacinto menotti serrati che erano arturo vella che erano altri tant'è vero che poi la guida dell'osprezione massimalista viene presa da un non socialista cioè da nenni che entra dal partito pubblicano e anche questa forse una lezione della storia perché si conosce turati perché si conosce prampolini perché si conosce buozzi perché avevano costituito dei fatti cioè avevano organizzato veramente dei movimenti politici cooperativi sindacali che avevano lasciato un'orma profonda nella storia d'italia il massimalismo adesso non voglio essere riduttivo diciamo così parolaio in fondo non è ricordato perché appunto sono rimaste le parole e i fatti della storia non si sono verificati la riunificazione socialista avviene in esilio a parigi nel 1930 auspici turati da una parte e nenni entrato nel partito dall'altro però nel 47 nuovamente questi due spezzoni si spezzeranno e quindi quando si dà giustamente ai comunisti tante colpe nella vicenda del partito socialista e ce li hanno ce li hanno io l'ho scritta però ricordiamoci anche un po qualche colpa autoctona dei socialisti che un certo contributo l'hanno dato anche loro eh a questa eh crisi del socialismo italiano e a questa difficoltà termino questa notazione dicendo che eh in Francia viene il simmetrico cioè in Francia sono la scissione la fanno i socialisti perché i comunisti hanno la maggioranza nel partito e quindi al congresso di tour è leon bloom che poi sarà il capo del fronte popolare che esce dal partito per ricostituire un partito socialista e naturalmente questo avrà eh naturalmente eh forti il fatto che gli uni originano in un modo e gli altri originano dall'altro anche questo avrà poi degli effetti diciamo nella storia successiva ma termino davvero cercando di precisare il mio ottimismo io non sono affatto un ottimista dico che avrebbe un senso proprio cent'anni dopo se il troncone esistente che è quello del partito democratico senza togliere niente altri partiti movimenti leo psi eccetera che esistono ma insomma il filone esistente partito democratico dicesse beh proprio in una situazione di questo genere di grande crisi di grande scollamento perché diciamo la verità o rifanno un governo riappattumando qualcosa di facilmente riappattumabile o fanno un governo di unità nazionale ma con tutte le cose oppure si va alle elezioni eh allora avrebbe un senso comunque che in questa crisi magari a remoto magari eccetera ci fosse comunque un'iniziativa di dire beh cerchiamo di confrontarci con quello che c'è di politico ma soprattutto con la realtà della società civile di ricomporre anche questa vicenda perché pensiamo che la nascita del partito democratico per esempio Massimo D'Alema ha detto sbagliato no non è un piccolo fatto cioè ci se c'è da ricomporre una grande diaspora una grande articolazione se Zingaretti diciamo il partito democratico dicesse vabbè allora prendiamo lo spunto da questo centenario per sviluppare non una costituente ne abbiamo avuto troppe ma un dibattito largo una discussione un'apertura sulle linee che ha Carlo Galli che programma il partito democratico si è sfiancato in questa mediazione fra Renzi e Conte e i 5 Stelle in questa mediazione ha perso di smalto l'identità ma se si vuole avere una partecipazione politica ci vuole un programma ci vuole un metodo ci vuole un partito e quindi aprire una riflessione diciamo molto larga credo che sarebbe importante vedo che Marta Corradi sta scrivendo dicendo che hanno un'iniziativa che loro vogliono annunciare spero di essere stato chiaro in quello che propongo se non sono stato chiaro ditemelo e darei la parola a Marta Corradi che vuole annunciare questa iniziativa il microfono in alto a destra dovrebbe esserci c'è sicuramente l'opzione per attivare il microfono lo trova sulla normalmente in alto a destra buonasera grazie sono riuscita buonasera grazie buonasera sono intimorita per il livello delle persone che mi hanno preceduto e quindi sono così molto prudente nella parola però vi ringrazio perché gli stimoli che la lettura del congresso del 21 ha dopo 100 anni ha dato con le vostre contributi e riflessioni è un arricchimento diciamo che parla capitale della cultura 20 più 21 è stata molto provata da questo covid che ha fatto slittare tante volte le iniziative il professor Carlo Galli ne è consapevole perché è uno dei nostri relatori ora si parla di maggio forse ottobre ma se per farla in presenza e per far ruotare attorno alla mostra degli eventi collaterali mi pare che se si aspetta diciamo la possibilità di farla in presenza questa riflessione questo richiamo che anche i relatori hanno fatto ai politici attuali attraverso queste riflessioni di oggi di invitarli a prendere in mano la situazione ad avere un filo insomma a rivedere la storia no perché è veramente stata cancellata il nostro passato aspettare la possibilità che il covid lo permetta secondo me si fa passare troppo tempo e si rischia appunto di di non dare il peso il valore a questo a questo centenario che deve invece guardare il passato ma per il futuro quindi vi chiedo non lo so se si in in un altro momento con gli organizzatori che oggi hanno proposto questo questo evento su attraverso questi mezzi mezzi multimediali se in un altro momento volesse con con me riprendere questa eventuale possibilità di anticipare eventualmente la mostra con iniziative come questa fatta più diciamo più specifica e con un pubblico ehm più più medio ecco come livello così di di grazie a maria facci sapere ti aiuteremo a diffondere iniziative darei ora il bastone del comando andrea puccetti che deve dare la parola franco maria tedesco il la mia recente nomina agli uffizi mi costringe in questo momento per un'emergenza a lasciarvi e grazie veramente a tutti grazie in particolare a carlo galli e auguri per il proseguo del dibattito grazie carissimo ciao grazie mille devi dare la parola franco maria sì lo faccio lo faccio subito ti ringrazio e allora ecco la passo subito la parola franco maria tedesco chiedo naturalmente alla alla gestione del panel che è nella fondazione di di liberare gli audio qualora fossero bloccati grazie sì mi sentite sì benissimo grazie buonasera a tutti in particolare saluto gli organizzatori valdo spini e il professor carlo galli in particolare no io volevo fare un intervento molto rapido ricollegandomi alle cose che diceva valdo spini poco fa sostanzialmente per dire questo che diciamo nel 21 era grasso che colava nel senso che politicamente c'era una densità diciamo di radicalismo elevatissima per cui ecco insomma oggi i socialisti di allora sarebbero dei tupamaro cioè sarebbero dei rivoluzionari e questo si ricollega anche diciamo a una certa interpretazione corrente di gramsci ha avuto una certa fortuna nel mondo la gramsci renaissance nel senso che appunto lo stesso gramsci purtroppo è stato vittima di questa diciamo forma di edulcoramento terry higelton che è un teorico ma è un teorico marxista della letteratura diceva il povero gramsci è stato trasformato in una sorta di professore sardo che insegna teoria del discorso al politecnico di londra quindi ecco insomma il livello del radicalismo di allora naturalmente però ci chiede di interrogarci su che cos'è il riformismo oggi perché insomma è vero valdo parlava appunto dei radicali parolai eccetera però oggi il rischio è che quei riformisti si trasformino in realtà in soggetti molto vicini alla sorta di acquiescenza diciamo all'ideologia che volgarmente per capirci chiamerò del neoliberismo diciamo che le forze del centro-sinistra spesso riformiste non si sono distinte molto da quell'impianto ideologico quindi ecco insomma storicamente il paragone è un po complicato perché appunto il livello la densità del radicalismo di allora è assolutamente imparagonabile al riformismo di oggi quindi forse la domanda appunto su che cos'è il riformismo è urgentissimo grazie allora mi hanno segnalato appunto anche alcuni interventi che offro ai successivi eh che vorranno parlare ehm era stato chiesto da eh Martini eh dalla signora Maria Teresa Martini comunque una valutazione sul ruolo eh di Kulishoff e quindi del suo impegno in parte il presidente Espini eh ne aveva ne aveva parlato e e poi ecco diciamo che ha scritto anche Massimo Negri poi naturalmente se vuole prendere la parola ce lo ce lo ce lo può segnalare io a questo punto passerei eh il testimone al professor Galli e insomma da suo studioso mi permetto di eh così di di ricordare che che ha messo l'accento su su quella che naturalmente è il contesto sociale no che ha portato anche a alle vicende di quegli anni e che forse è una chiave di lettura molto importante no nella tensione ideale eh nei partiti che poi sono sono stati richiamati anche eh diciamo negli interventi successivi di Pierluigi e di Andrea quindi ecco passo la parola al professore beh grazie alcune alcune osservazioni i comunisti non stavano insieme agli antifascisti i comunisti erano antifascisti ma cercavano di differenziarsene eh in questo verbale è presente il termine social traditori che fa parte della tradizione del socialismo eh termine rivolto verso i i riformisti e i comunisti di lì a poco conieranno il termine social fascismo perché si vada all'unità antifascista dei partiti cattolici laico democratici e comuniste ci vuole il settimo congresso cominter cioè ci vogliono degli anni nel frattempo non Mussolini ma Hitler va al potere eh eh leggiamolo bene questo questo prezioso verbale cioè l'intervento del del messo della terza internazionale è da brividi è da brividi o eh il eh riformismo tedesco eh ha sollevato una questione che va sollevata insomma eh il più a destra dei presenti in quel congresso cioè Turati è è uno che dice eh il mio obiettivo è portare il proletariato al governo eh poi dice anche che questo non sarà una dittatura perché il proletariato è la maggioranza bene eh e e dice la la via per portare il proletariato al governo è una via lunga ma era più breve delle vie possibili questa via si chiama riformismo la via breve la violenza è perdente e diventa una via lunghissima perché fa perdere tutte le eh le posizioni fin qui acquisite eh da novanta da trent'anni di eh storia di esistenza eh formale ufficiale del partito socialista oggi il eh la parola riformismo ha il valore sostanzialmente opposto cioè significa eh buttar fuori non il proletariato che nessuna una parola che nessuna dopo da più ma insomma eh ogni istanza eh che abbia un potere politico eh ogni buttarla fuori dai luoghi del potere e conformare il potere alle esigenze alle interne compatibilità eh della macchina economica capitalistica eh riformismo vuol dire smantellare le rigidità che sono rigidità dal punto di vista capitalistico dal punto di vista di chi le ha posta in essere sono diritti ecco smantellare i diritti dello stato sociale per far funzionare meglio la macchina capitalistica posso perfino pensare che nella testa di chi ha ragionato così ci fosse anche l'idea che una volta che il capitalismo viene lasciato esistere secondo la propria logica allora si potranno redistribuire in parte i benefici che esso produci naturalmente questo è un discorso che non è socialista non è nemmeno socialdemocratico perché i socialdemocratici erano fautori di un'architettura di equilibrio fra le esigenze della sinistra e le esigenze del capitalismo che tenevano distinte questo discorso cioè ad operare il riformismo come parola chiave per smantellare lo stato sociale per rendere la società liquida e cioè renderla flessibile agli impulsi che provengono dalle esigenze della produzione questo non è un discorso socialista perché non ha del socialismo l'idea fondamentale cioè che la macchina produttiva capitalistica è intrinsecamente e ineluttabilmente squilibrato e produce in sempre se non vi sono correttivi più o meno radicali ad opera della politica produce sempre squilibri gravissimi che che passano attraverso la oppressione della maggior parte della società ma in certe analisi sono squilibri che producono perfino la autodistruzione del capitalismo ora la noi qualche anno fa protestavamo contro la società dei due terzi cioè contro l'idea che fosse necessario e sufficiente lasciare una macchina capitalistica che funzionasse secondo le proprie regole perché quella macchina avrebbe prodotto benessere garanzie socializzazione cittadinanza piena per i due terzi della società e questo parve a molti offensivo e inumeno bene oggi oggi noi abbiamo una situazione in cui metà grossomodo metà della società quella che vota vota per partiti di destra perché è una metà composta in buona parte da drop out o da persone che temono di diventarlo presto e certamente persone che hanno difficoltà socio economiche non votano a sinistra sicurissimamente adesso senza fare la caricatura del pd come partito delle ztl ma insomma è sicuramente il partito dei ceti media culturati e sicuramente in certe ragioni d'italia è un partito anche che ha un voto di tradizione comunista ma insomma quello poi a certo punto le persone purtroppo muoiono dico di vecchiaia i voti nuovi si prendono si prendono nel ceto medio acculturato con un certo tenore di vita certamente non nelle fasce deboli fasce deboli che aumentano continuamente di vastità sociale no ora riformismo dovrebbe significare oggi costruire un nuovo equilibrio fra le ragioni della macchina produttiva da una parte e le ragioni della società dall'altra o detto in un altro modo dovrebbe significare riformismo istituire ove ciò sia possibile istituire aree in cui la logica economica non entra aree della società in cui la logica economica non entra noi abbiamo visto che la logica economica entra ovunque entra all'università gestita aziendalmente entra nei beni culturali gestiti aziendalmente entra nel mondo della della previdenza sociale che deve essere gestito aziendalmente istituire aree la cui logica non è la logica economica questo è io vedo oggi riformismo cioè riformare l'esistente in quella direzione non riformare l'esistente nella direzione di assecondare le logiche del capitalismo perché questo è già stato fatto e l'obiettivo voglio essere generoso l'obiettivo è stato fallito cioè il capitalismo non ce la fa a produrre una ricchezza sufficiente per tutta la società lo sapeva non dico marx lo sapeva egli paragrafi 247 della filosofia del diritto è incredibile che si che si possa credere che un'economia fondata sul profitto il privato sulla concorrenza spietata possa produrre effetti benefici per tutta la società non ha senso pensare questo la politica serve come minimo come minimo per bloccare le logiche economiche ed escludere da determinati spazi sociali per me più ampi sono meglio è ma insomma escludere non mettere non fare dell'utilitarismo la filosofia politica centrale unica della società voi avete visto tutti ma l'idea che in caso di mancanza di risorse verranno pesate le persone e quelle trovate troppo leggere verranno abbandonate è di due giorni fa tra le presunte linee guide di gestione del piano vaccinale ecco questo è una logica economica cioè è la logica del downsizing di un'impresa che si trova ad avere troppi dipendenti non fa abbastanza profitti e licenzi ecco sarebbe carino non essere licenziati dal consorzio umano in quanto appunto vecchi deboli inutili vedete come è entrata la logica economica ovunque dove si pesa si pesano le persone e si dice tu pesi abbastanza e ti salviamo tu non pesi abbastanza e puoi scomparire questo vero e proprio disastro epistemologico e sociale è quello su cui dovrebbe riflettere la sinistra con un problema oggi in italia la sinistra non c'è se voi andate a vedere nell'arco dei partiti politici non ce n'è uno che si dichiari di sinistra poi lo so che ci sono dieci partiti che santo definiscono comunisti che hanno la parola comunista nel proprio logo sono circa dieci mi risulta messi insieme non fanno il numero di voti pari al numero di iscritti che aveva il pc a bologna che erano 70 anni ricordiamoci quando di quando sentiamo la parola riformismo oggi sarà bene chiederci vuoi riformare lo stato sociale perché vada verso l'esigenza del capitale o vuoi riformare il capitalismo perché vada verso l'esigenza dello stato sociale a questa domanda nessun nessun politico che sia in carica oggi risponde perché respingono l'idea che vi sia incompatibilità fra le logiche del capitalismo e le logiche della democrazia l'assioma di fondo è questo capitalismo uguale democrazia quando l'impresa capitalistica di maggior successo nel pianeta la cina è lì a dimostrare che il capitalismo fa tranquillamente a meno della democrazia la ne fa a meno in un certo modo da noi corriamo il rischio che ne faccia meno in un altro se ci fosse una sinistra a questo penserebbe ma siccome non c'è ci pensano soltanto dei soggetti isolati nella società che dice giustamente raldo è bene che cerchino di incontrarsi e di parlarsi ma state tranquilli non ci sarà mai un esponente del pd lì l'esponente ufficiale dico non sarà mai un'impresa fatta propria un'impresa fatta propria ufficialmente come gesto politico dal pd su questo potete stare tranquilli per quanto riguarda ancora invece il progetto il il verbale del congresso di livorno sì è un altro mondo non era un mondo migliore rispetto al nostro perché appunto stava per capitare quello che poi capitò però era un mondo più umano cioè dove gli uomini e le donne avevano la pretesa di lasciare un impronta cioè avevano la pretesa di essere loro a piegare gli avvenimenti questo poi andate a finire che gli avvenimenti li ha piegati mussolini che poi peraltro era poi un socialista cioè non è che fosse chissà che cosa è un socialista che aveva capito che i socialisti italiani la rivoluzione non l'avrebbero mai fatta e allora si è intestato la contro rivoluzione alla quale la borghesia lo spingeva spaventata dalle troppe parole e dagli errori gravissimi della della sinistra che non di meno ecco io allora sarei stato di sinistra perché perché lì c'è c'è un'istanza profondissima che se non l'abbiamo inutile che facciamo politica istanza umanistica detto nel modo più semplice in questo mondo ci si deve stare senza prenderlo come un dato o meglio sapendo che c'è un mondo dato ma che è neva della nostra dignità di essere umani l'idea di non prenderlo come dato ma di modificarlo radicalmente questa idea è l'idea scomparsa se voi oggi sentite parlare un giovane questi giovani non hanno questa idea non hanno questa idea perché gli errori di chi è meno giovane ha fatto perdere completamente la speranza che il mondo possa essere modificato radicalmente o comunque c'è sempre qualcuno che dice sì ma te lo modifico io attraverso altre vie che so la tecnica il che è vero cioè la modifica avviene davvero anche per quella via lì è che quella via lì è sempre nelle mani di coloro che hanno avuto sempre nelle mani il corso del mondo e dunque tutto quello che c'è di potenziale dentro la tecnica viene sviluppato solo in determinate direzioni e non in una notazione mi sembra di poter dire che in tutto quel libro che ripeto sono 400 belle pagine la parola mussolini non c'è mai c'è poche volte la parola fascismo non c'è mai la parola dialettica nemmeno barato non adopera perché evidentemente di ricordava troppo mondolfo verso il quale c'è una continua polemica da parte di tutti poveretto la parola mussolini non c'è mai uno se sarebbe aspettato che fosse lì incombente invece no rimozione paura vergogna però è bello e bello che che facessero come vuol dire che avevano una una salutare energia non è vero che è meglio è meglio essere disturbati dai leoni da tastiera no no è meglio è meglio non ci sia violenza ma se ci deve essere manifestazione fisica di di dissenso è meglio che sia fisica che non mediatica un giorno arriveremo a capire che una delle sconfitte della sinacassa delle sconfitte della sinistra sta nell'elettronica ma insomma c'è nella trasformazione del mondo in mondo virtuale ad opera di chi ad opera dell'elettronica non di chi ne fruisce passivamente bene io per un momento mi fermo insomma di ringrazio anzi per avermi dato ancora la parola grazie io vorrei ringraziare i tanti interventi che in parallelo si stanno manifestando sia sulla piattaforma zoom che chiaramente è quella che i panelist quindi gli oratori possono vedere più facilmente tra questi abbiamo anna cocci grifoni abbiamo maria teresa martini che hanno toccato argomenti che sono stati sono stati dibattuti ci sono moltissimi interventi anche dall'estero maria vitali volant che addirittura ci scrive dalla francia del nord chi è sulla sta visualizzando facebook lo vede ci sono molti interventi io la ringrazio naturalmente ci dice che il termine scissione le provoca l'orticaria chiaramente è comprensibile in questo momento sicuramente lei ne dà una chiave di attualità scrive musetti pacifico alessandro ancora fabio cannizzaro e li ringraziamo tutti anna salfi io vorrei ripassare vorrei ripassare la parola per luigi andrea mi permetto solo una piccola una piccola riflessione su quella che appena detto professore carlo galli in precedenza ce l'aveva fatto capire anche valdo spini sì allora si faceva sicuramente a pugni c'era una tensione ideale che credo di poter dire forse dettata dalla dalla situazione storica no perché evidentemente la situazione storica in cui l'uomo si trova si trova a vivere poi comporta questo desiderio di unirsi e allora veniva nei partiti questo desiderio appunto di di cambiare il corso della storia e quindi anche di esprimere queste grandi tensioni ideali che c'erano la base di questi grandi di questi grandi scontri politici che hanno come ci ha ricordato andrea catena lo stesso pierluigi hanno poi influenzato la storia oggi questa attenzione ideale eh non c'è perché siamo 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 separati il professor carlo galli ha parlato di una separazione che che in parte è dovuta sono d'accordo con lui eh anche alla alla nuova modalità con cui con cui negli ultimi anni si ci si ritrova a parlare di politica manca il rapporto umano manca manca il confronto e questo insomma siamo mammiferi siamo siamo esseri umani naturalmente è quella scintilla della scintilla di cui il professor carlo galli ha parlato in alcuni suoi libri e ora se vogliamo possiamo possiamo scomodare platone quando eh carlo galli ha eh ci parla delle tensioni che guidano l'uomo no quindi l'aggressività il desiderio e la ragione la ragione intesa come come questa forma di eh di emancipazione dalla vita dalla vita utilitaristica perché il professor carlo galli ci ha parlato appunto dell'utilità dell'utilitarismo che guida oggi la società ma perché guida semplicemente anche le nostre vite l'utilitarismo quindi questa è anche una riflessione su noi stessi quindi detto questo ecco io avrei piacere di 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 sentire un ulteriore intervento di Pierluigi di questo di questo interessantissimo libro e e gli passo gli passo la parola perfetto sì allora grazie Andrea e mi associo a te saluti alle persone che ci stanno seguendo su Facebook e mancanza di valdo mi mi inserisco anche per fare un minimo di promozione sul fatto che il video poi rimarrà su Facebook sulla pagina della fondazione sulle altre pagine collegate anche quella del libro che sempre sul 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 e verrà messo anche sul profilo YouTube della della fondazione e questo varrà anche per i prossimi incontri che faremo peraltro tutto ciò speriamo che posta nei fatti essere utile a costruire una sorta di archivio dei commenti perché diciamo bello resoconto è bello farne i commenti insomma quello che che ci ha detto professor Galli è assolutamente simulante credo che se qualcuno avrà voglia di riascoltarsi nei prossimi giorni ma anche nei prossimi mesi nei prossimi anni avrà comunque un valore diciamo che nel mondo della smaterializzazione uno dei vantaggi è la possibilità di salvare con più facilità questi contenuti che è un po' un'operazione che tutti stiamo facendo nel merito molto rapidamente effettivamente è vero cioè quando Turati parla di riformismo e dice che la via più breve perché è l'unica parla di un'opzione gradualista lui dice guardate non facciamo adesso la rivoluzione ci arriviamo un po' per volta ma l'obiettivo è chiaro non nega l'obiettivo tant'è che nella stessa mozione della contrazionista comunque c'è il riconoscimento del Cominternet c'è tutta cioè si sta dentro quella dinamica quella dinamica mutatis mutatis arriva avanti ancora fino agli anni cinquanta voglio ricordare che sembra nel cinquanta tre o cinquantadue il premio stalin mi aiuti professore viene assegnato a nenni all'inizio degli anni cinquanta non ha togliato però sa magari dentro una strategia di tenere di cucire le cose però diciamo che forse con lungheria che quindi solo nel cinquantasei e forse anche per quello Saragat fa la sua scissione nel quarantasette soltanto dopo i fatti del cinquantasei che l'opzione riformista che poi porterà alla nascita del primo centrosinistra diventa qualcosa di diverso da un approdo rivoluzionario eh oggi il riformismo è si nomino tutti gli effetti con innovazione legislativa ogni volta che si fa una legge nuova che abbia la pretesa di essere una sorta di legge quadro anzi magari una legge quadro che delega poi a decreti attuativi eh la cosa infatti si parla di riforma e questo è un abbastanza inquietante insomma riforma come si nomino di innovazione legislativa questo ehm questo è un tema e rispetto al quadro più generale in verità oltre i commenti avevo citato avevo chiesto anche un contributo a Zingaretti che gentilissimamente nonostante i i i cassini in corso ma anche come dire quelli dei mesi scorsi ha voluto dare perché in verità lo conobbi eh lui era segretario dei della sinistra giovanile quando in anticipo rispetto al PDS centrare la sinistra giovanile nel PDS tra i giovani dell'internazionale socialista eh ed era un passaggio che ha un suo significato storico e io credo forse una delle cose che manca è una dimensione sovranazionale al nostro ragionare noi sostanzialmente abbiamo abdicato ad ogni eh possibile eh pratica di ma anche idea di intervento che vada oltre i nostri confini nazionali diciamo che a noi l'Europa ci dice non siamo quelli che l'Europa la fanno che la contribuiscono a fare ecco scomparsa l'agenda del Mediterraneo sono scomparsa tutta una serie di tematiche che ci facevano questo vuol dire forse c'è la lezione del ventuno diciamo che una cosa che ha colpito leggendo quelle carte è che il motivo per il quale Turati deve essere buttato fuori è perché c'è una risoluzione del Cominternet che ha uno dei suoi in una delle sue ventuno condizioni si prende la beca di citare Turati come uno dei nemici del comunismo e della rivoluzione il fatto che come dire in un movimento mondiale comunque ci si prenda una beca di citare un italiano è qualcosa che oggi non fa più nessuno se se volete diciamo abbiamo siamo diventati abbastanza più rilevanti rispetto a tutte queste vicende e tutte queste cose forse ecco un aspetto che dovrebbe riscoprire il campo progressista democratico una sinistra tutta la è anche questo cioè un'aspirazione internazionale nella quale andare a leggere le azioni che vengono poste in essere ma appunto la logica in questo sono molto d'accordo con quello che diceva Galli in una logica di trasformazione cambiamento della società non di leggiamo il mondo internazionale è incredibile come nel dibattito della crisi che c'è anche adesso le due posizioni in campo sono questi che fa intravedere millantato quello che volete un filo con Biden americano a dire faccio questa cosa quasi in accordo con il nuovo presidente che non ha confermato però diciamo c'è quello e come quest'altra parte parlo da comunque attivista democratico che dice no noi dobbiamo rimanere perché comunque siamo dentro un quadro europeo cioè sembra che quasi tutti dobbiamo andare a subire per le necessità che vengono avanzate sono tutte esterne cioè le ragioni della parte dell'altra sembrano ragioni molto esterne mentre probabilmente forse la riscoperta delle di una nostra visione del mondo potrebbe potrebbe aiutarci ma questo insomma è oggetto ovviamente di discussione. Grazie Andrea e grazie a tutti. Grazie a te Pierluigi. Allora io nel frattempo leggo dei messaggi che abbiamo ricevuto e ci chiedano naturalmente il parere dei relatori principali del professore Pierluigi Regoli di Andrea Catena naturalmente di chiunque altro volesse intervenire. Anna Cocci Grifoni ci scrive la sinistra italiana in questi cento anni sembra che sia che sia sempre stata vittima di una incontenibile vocazione scissionista. Tesa tra massimalismi e riformismi ma anche soprattutto da parte delle posizioni massimaliste da un radicamento ideologico che ora come allora impedisce di leggere la realtà nelle sue profonde modificazioni. Ecco ci chiede ci chiede un chiede un parere ai relatori su questo tema ne approfitto per leggere anche l'intervento di Maria Teresa Martini prima di ridarvi la parola oggi non esiste più un rapporto nel territorio tra il PD e o altri e o altri movimenti e le persone i cittadini per facilitare la partecipazione nei paesi forse anche nelle città queste relazioni diciamo non le curano più. I partiti di sinistra si conta proprio su quelli che voi definite intellettuali borghesi che cosa fanno ed ecco anche che anche su questo intervento vi chiedo vi chiedo un un parere lo farei partendo da Andrea Catena e ringrazio. Sì sono questioni molto stimolanti così come è stato molto stimolante il secondo intervento professor Galli e io penso che che le sfide che noi abbiamo di fronte sono sono queste sono quelle che indicava il professor Galli veniamo da un ciclo di sicuramente di subalternità della sinistra le logiche di un neoliberismo di fatto in questi decenni ha spadroneggiato e questa subalternità oggi riproduce una situazione drammatica in cui appunto molto spesso le classi popolari per quanto frammentate frantumate ma che insomma esistono così come esiste una classe separaia così come esistono classi oratrici così come esistono masse di precari sfruttati oggi come allora seppure in contesto completamente diverso spesso non trovano più la loro rappresentanza però nella sinistra ma la trovano in forze populista in forze di destra che cavalcano le paure e tuttavia io penso che ci sono anche segnali di controtendenza che dobbiamo cogliere abbiamo una chiesa con un papa che parla un linguaggio che non ha precedenti nella storia della chiesa cattolica e che pone con forza il tema del dello scarto del di un capitalismo sempre più crudele abbiamo forze di ispirazione socialista che torna una protagonista dall'altra parte dell'oceano oggi bernie sanders viene eletto presidente della commissione bilancio del senato non c'è dubbio che biden ha vinto costruendo una larga coalizione di forze che vanno dai movimenti più radicali di difesa dei diritti civili delle minoranze persino pezzi del partito repubblicano che sono che hanno rifiutato diciamo l'opzione trampiana in questa coalizione però il ruolo di una sinistra socialista che si è organizzata dentro il partito democratico americano in un modo che non ha precedenti nella storia americana è stata decisiva anche per riconquistare un rapporto con le classi popolari perché spesso nelle rappresentazioni schematiche della stampa italiana più che americana per la verità si dice che trump vince tra le classi popolari e biden vince tra elite invece la verità è che anche grazie al ruolo della sinistra progressista democratica dentro il partito democratico americano il partito democratico americano in questa elezione c'è da riconquistare almeno nelle realtà metropolitane poi c'è un discorso riguardo alle aree diciamo più periferiche rurali diciamo non nelle periferie delle città perché nelle periferie delle città biden ha vinto come appunto ha vinto tra le classi popolari delle aree metropolitane c'è tutto questo una difficoltà persistente della sinistra europea della sinistra e della sinistra italiana questo organice addirittura non esiste una sinistra italiana forse è un giudizio fin troppo spettato ma che coglie sicuramente un elemento di verità abbiamo il partito democratico viene da una situazione di una sconfitta drammatica come quella delle ultime elezioni politiche da che tuttavia poi per una serie di vicende che conosciamo ci hanno portato comunque a essere forza di governo e oggi stiamo vivendo questa crisi non c'è dubbio che tutti gli elementi di quella sconfitta che abbiamo avuto nel 2018 sono ancora tutti lì diciamo un progetto del partito democratico un progetto da ripensare alla radice affrontando buona parte delle questioni anche anche sono state oggi poste che poneva il professor galli poi nel merito ovviamente si potrebbe entrare e discutere ma non c'è dubbio che le questioni sono quelle cioè come si ripensa oggi un riformismo che non si limiti a gestire le compatibilità ma sia in grado di pensare anche un cambiamento dell'esistente è un riformismo che si rimetta in sintonia con con la società con le classi popolari con la gente che noi dobbiamo rappresentare se vogliamo tornare a chiamarci sinistra e non c'è dubbio che la cosa che colpisce il dibattito del congresso di giorno è che pur nelle divisioni tutti quanti avevano come riferimento un soggetto diceva il professor galli all'inizio sociale a cui riferissi che allora era il proletariato erano le classi subalterne oggi non esiste più quel proletariato ma le classi subalterne esistono e tutti in quel dibattito sia i massimalisti sia i comunisti sia i riformisti non si ponevano il problema di portare al potere al governo un partito o una leadership si ponevano il problema di portare al potere al governo le classi subalterne una classe sociale che era quella appunto del del proletariato oggi noi questo orizzonte abbiamo completamente smarrito lo dobbiamo riconquistare io nel ho riportato nel libro ho scelto di riportare nel libro su richiesta di Pierluigi l'articolo di di Gobetti che parla di consigli operai ma quello è il tema di ricostruire forme di partecipazione democratica dal basso è un grande tema ancora attuale se noi non riscopriamo questo tema noi non affrontiamo il problema del rapporto tra democrazia e politica e tra che oggi purtroppo tra partecipazione e democrazia che oggi purtroppo prende una piega che quella del populismo di chi da risposte di marketing di banalizzazione del tema della partecipazione come per esempio per certi aspetti ha dato anche il movimento 5 stelle per non parlare delle destre populiste quello e quindi è un grande tema che oggi andrebbe andrebbe riscoperto e il riformismo secondo me oggi deve deve voler dire questo cioè riporre il tema di una partecipazione democratica a delle classi più deboli alla vita del paese che era il grande tema che si ponevano a Gramsci i Gobetti che si poneva a suo modo anche in modo diverso si ponevano sia turati che i massimalisti nelle loro divisioni questo tema per loro era il tema centrale oggi invece questo tema è scomparso dalle nostre riflessioni quindi riflettere sul congresso Livorno vuol dire riflettere sugli errori di una sinistra che invece di combattere il nemico che stava fuori che era appunto Mussolini del fascismo si divideva al suo interno e vedeva il nemico nel proprio vicino questi errori non vanno più ripetuti non vanno superati ma bisogna però riscoprire anche i grandi meriti di una politica di allora che aveva un orizzonte ideale che forse oggi appunto non c'è più e va e va ricostruito grazie Andrea e naturalmente grazie a tutti gli interventi che ci sono stati in questa presentazione di 1921 reso conto di una di una scessione eh questo racconto questi atti eh misi in questo in questo lavoro di 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 Andrea Catena Graziella Falconi, Valdo Espini, Nicola Zingaretti con i loro interventi e naturalmente un'opera pensata no creata da da Pierluigi Regoli e al quale naturalmente mando un caro saluto chiedo al professor Galli se vuole vuole chiudere vuole eh lasciarci un'ulteriore riflessione e naturalmente a chiunque altro volesse volesse intervenire. Eh sì io intanto saluto il dottor Massimo Negri che scrive nel nella chat eh affermando di essere stato mio studente in anni talmente lontani che non voglio nemmeno parlare. Lo saluto caramente. Ehm. io io come ho un'idea di di fondo ehm bisogna fare una grande riforma eh ideale nel senso di riforma di idee eh non accettare il eh dato il dato in questo momento è anche una narrazione mainstream eh nella quale appunto prevale l'idea che noi dobbiamo stare dentro l'Europa e senza che noi mai ci chiediamo noi che siamo tre paesi fondatori peraltro noi mai ci chiediamo che cosa vuol dire stare dentro l'Europa adesso cioè vuol dire accettare un paradigma economico almeno dico almeno conosciamolo studiamolo un pochino da vicino eh capiamo come funziona l'euro qual è la filosofia politico economica che ci sta sotto e l'ordoliberalismo tedesco per carità si può fare di peggio certamente però eh non è certamente un modo di pensare alla politica l'economia il rapporto tra economia e società un modo di sinistra nasce alla fine degli agli inizi degli anni trenta si perfeziona negli anni quaranta trionfa dal quarantanove in poi deliberatamente contro ogni ipotesi socialista comunque declinata è difficile stare dentro una macchina del genere poi aspetta che è una macchina deflattiva eh è difficile stare dentro una macchina del genere poi pretendere anche di fare politiche sociali bisogna essere in grado di fare analisi un po minuziose un po interne ai meccanismi e non lasciare che l'ideale europeo eh venga eh adoperato per impedire ogni tipo di critica e ehm senza finire meno che mai eh finendo con la dare del sovranista a chiunque osi eh criticare ripeto il modello economico eh dell'ordoliberalismo perché insomma bisogna altrimenti recuperiamo quel modello per cui quando qualcuno non andava bene gli si gli si dava del social traditore ecco ehm c'è da fare una grande operazione di pulizia perché noi si possa intervenire su che cosa sul fatto che c'è una società smembrata ora oggi ciò è evidentissimo ed è purtroppo colpa del covid ma insomma anche il giorno prima del covid non è che avessimo una società giusta non ci andava nemmeno vicino tant'è vero che le elezioni le vincevano dei partiti populisti e di destra ecco ehm dobbiamo capire che non possiamo accettare che un giovane viva senza una prospettiva che non trovi lavoro che trovi lavoro soltanto precario che venga brutalmente sfruttato eh e che tutto ciò venga o negato o addirittura ammesso come assolutamente positivo per lo sviluppo economico non possiamo accettare che la nostra società sia governata da algoritmi di proprietà privata non possiamo accettare sostanzialmente che oggi dove nasci li vivi cioè il blocco totale di quello che si chiama volgarmente l'ascensore sociale blocco totale cioè è tornato ad essere determinante il rango economico della tua famiglia di origine allora ce le diciamo queste cose o no sono cose che sono non sono un sapere arcano non c'è non c'è sociologo non c'è politologo che non le sappia se i politici i libri li leggessero invece di scrivere rifarsi di scrivere dai giornalisti eh non sarebbe male capirebbero poi la l'origine dei voti che vanno non a loro ma ai partiti loro nemici ecco eh che non sempre si trova un partito un movimento come il movimento 5 stelle che fa il pieno di voti e non sa che cosa farsene e alla fine si trova ad essere ad subalterno rispetto a un partito che la metà dei suoi voti non va sempre così eh può anche andare molto peggio può anche esserci qualcuno che prende il milione di voti e sa benissimo che cosa farsi cioè farci del male ecco allora se vogliamo ragionare veramente bisogna cominciare ad essere capaci di fare ciò che marx giovane diceva essere fondamentale cioè la critica spietata di tutto ciò che esiste critica spietata non andare dietro agli slogan mainstream questo non vuol dire essere massimalisti per carità vuol dire essere banalmente realisti se vogliamo mai vincere le elezioni dobbiamo recuperare dei milioni di voti li potremo recuperare dicendo non dicendo ma su di che cosa devi non devi aver paura devi essere fiducioso nel fatto che la società progredisce sotto gli auspici del neoliberismo no bisogna dire fai bene ad aver paura è giusto che tu abbia paura perché il meccanismo economico dentro il quale sei nato è fatto per schiacciarti lo vogliamo capire se non gli diciamo questo non ci votano perché il fatto che quel meccanismo sia fatto per schiacciarli loro lo sanno perché lo vivono addosso a se stessi e gli dobbiamo dare scuole di alta pubblica discute di alta qualità e piantarla di ritenere che il marinare la scuola per fare le manifestazioni ecologiche sia una cosa buona è una cosa cattiva perché è a scuola che nasce lo spirito critico certo se hai professori capace di farlo nascere e gli dobbiamo dare sanità di buona qualità e il pubblico deve essere di buona qualità e ci vanno spesi dei soldi e i soldi se non li abbiamo dobbiamo trovarli a parte il fatto che non li abbiamo anche perché siamo dentro un sistema deflattivo che ci impedisce di fare quello che gli stati di solito fanno cioè stamparsi i soldi in una certa quantità senza esagerare quando c'è bisogno cosa che stiamo facendo adesso cosa stiamo facendo la necessità estrema abbiamo dovuto cominciare di farlo e capire che insomma forse magari tagliare 30.000 alla sanità non è stata un'idea geniale di diventarsi come si è vantato monti quando era primo ministro con i nostri voti in parlamento non c'è dubbio ecco che c'è questa grande grande richiesta di socialismo che emerge in questo momento siamo alle 7 7 10 circa quindi siamo rimasti anche nei tempi vorrei citare grazie a franco astengo che sull'ultimo intervento del professor galli eh si complimenta e naturalmente scrive testualmente che il suo il suo intervento rappresenta e rappresenti il suo onospicio punto di partenza per una ripresa di dibattito finalizzato al domani al di là degli esiti delle vicende di cui abbiamo discusso oggi grazie a franco astengo grazie a tutti eh per millenovecento e ventuno ho reso conto di una sessione eh a cura di Pierluigi Regoli quindi grazie ancora al professor Carlo Galli presidente Valdorpini che ci ha dovuto lasciare per impegni istituzionali eh seguito alla sua nomina eh nel CDA del della Galleria degli Uffizi e naturalmente anche ai coautori Andrea Andrea Catena e ehm grazie a Falconi grazie a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera a tu, buonasera a tutti. Ah, grazie. Grazie. Grazie.